Ciao ragazzi, allora quando le persone, specialmente quelle che non hanno esperienza, decidono di acquistare un cucciolo, all'inizio funziona quasi sempre così. Vanno a cercarsi un cucciolo, lo prendono il più giovane possibile. C'è sempre un amico che gli ha detto di andare a buttare via soldi negli allevatori, che c'è il cugino di mia sorella che ha fatto una cucciolata, canne te lo porto io. Ma fino a lì ci siamo fermati all'acquisto, ma dove sono pieni di convinzioni e come crescerlo, perché con tutti i declebrati che ci sono in giro, che dicono che il cane va cresciuto come un figlio, che è un membro della famiglia, che è un animale nato per amare l'uomo, anzi le qualità umane che ha il cane non le troveremo mai negli umani, e dubbi non ne hanno nessuno. Allora, semmai seguono tre o quattro regole che sono le credenze comuni, prenderlo il più piccolo possibile perché così si affezionerà tanto. Se poi piace di un colore, di quel colore. Se hanno letto qualcosa su una razza, dipende se lo vogliono da guardia, se lo vogliono da ricerca, fare sport, compagnia, difesa, la portare in giro al mercato, eccetera. Allora, qualcosa sulla razza sanno. Qualcuno le ha detto, inizia a farle giocare subito con i bambini perché così diventano compagni di gioco, non si staccheranno mai più. Altri le dicono, poi se lo tieni da solo non è un problema, basta che trovi tipo un pezzo di osso dal macellaio, che lui, ma siamo sempre alle soli, che lui abbia qualcosa da rosicchiare, siamo a posto, se no vai nel negozio, compri quel pezzo lì, finché è piccolo lo fai dormire nel letto, sul divano, eccetera, dopodiché. Insomma, non c'è un dubbio. Ma umano che si va avanti, ogni tanto qualche cane verso l'anno, l'anno è qualcosa, inizia a fare delle rimostranze, allora chiamano all'administratore e dicono Qui ci vuole un po' di disciplina, io comando e il cane deve eseguire, eccetera. Qualcuno parte già da subito perché non ha un cazzo da fare, quindi al sabato va e trova anche degli amici, inizia a farli fare seduto e alzato e tutte queste cose. Diciamo che se le persone non hanno esperienza e se il cane ha un po' di carattere, ci mettono più o meno due anni a distruggere completamente quel rapporto di fiducia che dovrebbe esserci. Fra un cane che è più o meno alla metà della sua maturità e i familiari che l'hanno adottato. Quando arriva a due anni e inizia a succedere il patatrack ed è lì che io inizio a lavorare con le consulenze. Io mi faccio pagare parecchio ma ho più lavoro di cose riesco a seguirme perché la gente si va a incasinare da sola e partono tutti nello stesso modo. Poi ci sono quelli che dicono no no ma io ne ho levati tre, sono tutte balle, perfetto. Oppure il mio amico non ha mica seguito tante cose e lì basta amare il cane, lui lo capisce. Io vedo di tutto perché questo è il mio lavoro. Guardate ad esempio come fanno con me questi cani ma specialmente selvaggia. Io per mettere selvaggia con mia figlia dopo che l'ho ritirata a due anni, circa due anni, ci ho messo 4-5 mesi, con mia moglie non ci sono ancora riuscito. Oppure lei è sempre selvaggia ed è qui che si butta addosso a me e vuole qualsiasi cosa che io gli faccio va bene ed è sempre selvaggia. Semmai noi cambiamo solo noi come persone ma il cane è sempre lo stesso. Nel frattempo vorrei aprire rapidamente una parentesi. Quanti genitori credono che allevare i figli sia una passeggiata perché gli sono capitati figli che avevano voglia di studiare, anzi siccome prendevano solo tutti 8 hanno iniziato a metterli in castigo e dire non esci più, ti tolgo il cellulare, la media deve essere del 9. E dicono, dispensano consigli a tutti come bisogna fare. Però poi ci sono anche di quelle famiglie che di figli ne hanno 3 o 4, i genitori sono sempre stati gli stessi, hanno utilizzato sempre, si può dire, le stesse cose e hanno un figlio che studia. L'altro che non va proprio a scuola, ha iniziato già a fumare a 12 anni, adesso si fa gli spinelli a 13 e 14, è un altro che non ha appena avuto 16 anni e non ha mai più voluto sapere i genitori. Eppure uno era di quelli che aveva la media dell'otto e lo mettevano in castigo perché riuscisse a migliorare nella scuola. E con i cani è la stessa cosa, noi più o meno ci mettiamo due anni a distruggere il nostro rapporto che noi abbiamo con i cani, con tutti, con il 100%. Con la differenza che i cani remissivi distruggiamo questo rapporto di fiducia, ma accettano, semmai ce ne accorgeremo poi con il deteriorare della loro salute e altri ribelli a un certo punto esplodono e iniziano a mordere tutti quanti. Io ne ho un po' chi fra virgolette in cura adesso, si sono fatti tutti i familiari. Che cos'è invece che bisognerebbe fare, cos'è che bisognerebbe applicare? Ci sono delle regole ben precise e prima vi ho fatto vedere qua Selvaggia, vi ho detto rispetto a noi, quando l'abbiamo adottata, lei come si sta comportando in modo completamente diverso, in base al tempo e alla qualità del tempo che gli dedichiamo, eccetera, eccetera. Ci sono dei punti, dei cardini che vanno applicati con tutti i cani. Io questo videocorso, che se volete comprarlo stasera in super promozione, ma ce n'è un problema, più aspettate e più io guadagnerò su questo videocorso. Il problema è riuscire a capire che io lì ho messo 45 passi importantissimi, che il cane sia bravissimo, che sia di carattere aggressivo, eccetera, andrebbero seguiti. E andrebbero seguiti perché? Perché se noi non applichiamo determinate regole col cucciolo, già fino dai primi minuti e poi le probabilità che se il cane ha un po' di carattere, non riusciamo poi a vivere un buon rapporto con lui, sono veramente poche. Bene, vi volevo dire questo per dirvi che avete stasera fino alle ore 24 per pagare solo 397 euro un videocorso di 6 ore, poi costerà 697, che ho proprio fatto apposta per cercare di evitare tutti questi problemi che nascono nelle famiglie con i cani. Il videocorso si chiama Come allevare il cucciolo perché diventi un cane affidabile e se avete dei bambini vi do un consiglio, non solo da padre e da nonno, iniziate a studiare un po' di cinofilia. A presto!